Il discorso del progetto Leonardo è assolutamente indispensabile se vogliamo guardare al futuro con un'ottica nuova. Il mondo con gli effetti della globalizzazione è diventato un mondo senza distanze in tempo reale, dobbiamo anche noi adeguarci al fatto di avere una transnazionalità e sentirci cittadini di una casa comune. Il programma con cadetini è importante per noi e per gli armatori, perché vogliamo che per i prossimi abbiamo buoni oficieri, e il più buono che realizziamo questo è che attraversiamo in compagnie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.